E' fatta per il 32enne difensore Gianmarco Ingrosso. Ex Cosenza, il centrale Salentino arriva dal Pisa, firmerà un biennale. L'annuncio sarà dato dentro le prossime 48 ore. In Abruzzo, Ingrosso, che è assistito dall'agente Paolo Paloni, ha militato nell'Aquila, vincendo anche un campionato di C2 nel 2012-2013. In Serie C ha collezionato circa 180 presenze. Nei club Paganese, l'Aquila, Tutto Cuoio, Matera, alle dipendenze proprio dell'attuale tecnico bianca-azzurro Gaetano Auteri e nella Pisa. In Serie B, 47 gettoni con il Lecce ad inizio carriera, poi Foggia e poi Pisa e Cosenza nelle ultime due stagioni. Così salirà a 6 il numero di difensori centrali a disposizione di Auteri. Ingrosso, Drudi, Ilanes, Frascatore, utilizzabile anche dal laterale Mancino, poi il Bebi, Veroli e l'Uruguayano Elisalde, che però sembra destinato a partire. Con l'imminente passaggio di Fiorillo alla Salernitana, le cessioni di Scognamilio, Masciangelo, Sorensen, Crecco. E intanto sono però, vi aggiorno anche su ultime novità, perché sono ore decisive proprio per il trasferimento di Vincenzo Fiorillo a titolo definitivo alla Salernitania. Dopo sette stagioni, il portiere genovese lascerà il Delfino. È pronto a firmare un contratto quadriennale con il club campano neopromosso in Serie A. Per il sostituto di Fiorillo, il sodalizio bianca-azzurro sta vagliando ancora diversi profili. Infine, la società ha ufficializzato la cessione del danese Sorensen alla Ternana e l'arrivo dal club umbro dell'attaccante Guido Marilungo, che in Abruzzo ha giocato a Lanciano in B. A breve, nell'ambito dell'operazione definita con la Ternana, arriverà anche l'ufficialità, lo abbiamo citato poco fa, del difensore Paolo Frascatore, che dunque torna a vestire la maglia della Pescara dopo otto anni.